Il governo delle tasse sta scoppiando, c'è una rissa permanente nel governo sulle tasse sulla casa, sulle tasse sui pannolini per i bambini, su una situazione che ormai è fuori controllo. Tant'è vero che si parla di un vertice, Tajani, Meloni, lunedì per trovare un accordo e il vicepresidente della Camera di Forza Italia dice palesemente che faranno emendamenti per cambiare la manovra se non saranno soddisfatti. Quindi lo scontro con Forza Italia sulle tasse è ormai arrivato all'apice. Prima c'è stato lo scontro con la Lega, la Lega era furibonda sulle vicende delle pensioni, stanno cercando di cambiare qualcosa. Nello stesso tempo il disastro di una manovra sgangherata, costruita male, senza confronto in Parlamento perché loro hanno detto che comunque questa manovra e quindi la legge di bilancio non potrebbe essere cambiata al Parlamento. Anche questo è assolutamente assurdo perché il Parlamento ha il diritto e il dovere di esaminare i provvedimenti del governo e di decidere di conseguenza. Quindi una gestione davvero da dilettanti allo sbaraglio, quindi è preoccupante anche questa, ma veramente stiamo parlando di dilettanti allo sbaraglio. Un giorno vogliono aumentare le tasse sulla casa, sugli affitti, la cedolare secca, maggiore, minore, invece di andare a recuperare tutto ciò che è in nero e cercare di recuperare le tasse da chi non le paga, aumentano le tasse a quelli che le pagano. Questo è il concetto. Il concetto che le tasse, se servono per mantenere la scuola, la sanità, le cose, sono giuste. Ma non è che tu le puoi aumentare all'infinito su quelli che pagano, mentre invece sei di manica buona e non dici niente agli evasori. Perché questo è quello che sta avvenendo. Sta avvenendo che non sapendo come fare una vera azione contro gli evasori, che sono stati sempre protetti dalle destre in questo Paese, tu cerchi di aumentare le tasse a quelli che già le pagano. Questo è il dato. E soprattutto tradiscono tutto quello che hanno detto finora. Hanno detto che mai metteremo le mani nelle tasche degli italiani e addirittura fanno una norma che si possono prelevare. Hanno tentato di fare una norma. Ma significa che in animo ce l'hanno per prelevare i soldi direttamente dai conti correnti, senza andare in banco da un magistrato a chiedere l'autorizzazione a fare un pignoramento. Voi sapete che se c'è una verifica a carico di un cittadino qualsiasi, non è che lo Stato direttamente interviene senza andare da un giudice a verificare se ha ragione o torto. Questo è proprio l'ABC. Allora si può capire che sta succedendo? Cioè un governo che barcolla con tutti i numeri che hanno, perché hanno una maggioranza, basta alla Camera e al Senato per colpa di chi? Per colpa di chi? E di cosa? Di una legge elettorale vergognosa. Io anzi oggi vi rilancerò il posto, ieri sono intervenuto proprio rilanciando la necessaria azione per cui voi dovete riempire le mail, le pagine dei parlamentari di tutti i partiti per dire che va abolita la legge elettorale attuale che fa schifo. Loro hanno promesso in tutte le salse, tutti i parlamentari, tutti i partiti che avrebbero reintrodotto o le preferenze o i collegi uninominali in grado di consentire ai cittadini di eleggere deputati e senatori. Di questa cosa se ne fottono, non dico tutti, ma una gran parte se ne frega, perché preferiscono questa legge che fa schifo e che è indecente. Questa maggioranza esagerata che ha in Parlamento la destra è dovuta a una legge elettorale pessima e alle scelte folli del PD di Letta all'epoca di rompere la possibile alleanza guidata da Conte perché porre in odio a Conte, perché qua sembra che tutto gira che deve essere in odio a Conte le cose. Ma hanno un'idea genuina, positiva invece di essere solo contro una persona? O no? E che diamo? E allora ha ragione Conte che dice che una cosa è certa, questo è il governo delle tasse, ma hanno messo pure la tassa aumentata sui pannonini dei bambini, ma è una cosa proprio… Cioè hanno aumentato l'IVA, hanno promesso che avrebbero ridotto le tasse, hanno, non hanno ridotto le accise, la benzina è schizzata oltre due euro, non hanno… rialzano addirittura la tassa sui pannonini dei bambini, dopo che hanno fatto tutto il discorso, Dio, patria, famiglia, dobbiamo difendere la famiglia, e che diamo? Ma a me ne vanno lì. Stiamo parlando di sciocchezze, ma che danno il senso dell'inadeguatezza a governare, di inadeguatezza. Poi non è che io dico che la sinistra e il centro-sinistra hanno sempre governato bene, sia chiaro, io ero molto critico, anche quando ero al governo, dei limiti che vedevo, ma non c'è paragone. Questi sono a un livello assolutamente surreale, surreale. Dice Giulia, questi annunciano una cosa e poi il giorno dopo, Marcella è d'accordo, la legge elettorale attuale va abolita. Se voi ogni giorno, quelli che mi seguono, fatemi una cortesia, ogni giorno vedete la pagina Facebook di qualcuno dei parlamentari di opposizione o di maggioranza e scrivetegli quando abolite la legge elettorale e ci ridate il diritto di votare, fate un hashtag, facciamo un hashtag, come lo vogliamo titolare? Datemi i suggerimenti, un hashtag da fare, basta legge elettorale truffa, è troppo lungo, vogliamo avere una legge in cui possiamo scegliere perché vi lascio l'idea, tra oggi fino a lunedì, datemi suggerimenti o dateli sul gruppo EcoDigital 2050 perché secondo me noi dobbiamo non mollare su questa cosa, perché se no se ne fregano, perché poi ci sono cento altre priorità, certo, c'è il disastro della guerra, però a volte si usano i disastri attuali per dire non bisogna parlare di niente perché c'è solo un tema, non è così, perché la vita continua e continua sia nelle cose buone che nelle cose negative, ma continua anche l'impegno a cambiare le cose sbagliate e dobbiamo farlo, quello della legge elettorale è fondamentale, così anche come il diritto io inizio a pensare seriamente che dobbiamo consentire il voto anche per corrispondenza o con sistemi di controllo e di sicurezza e il voto digitale, ma scusate, ma si può fare attraverso lo speed il controllo, possiamo fare certificati, possiamo versare soldi, possiamo ricevere stipendi e perché non potremmo votare con un riconoscimento facciale che ci assicuri, almeno aumentare i posti dove si può andare a votare, fare in modo che ci sia maggiore facilità per le persone di andare a votare dovunque, cioè noi dobbiamo migliorare la possibilità dei cittadini di votare, prima con la legge elettorale perché chiaramente se tu vuoi votare hai più possibilità di votare e la legge fa schifo, è chiaro che non ci serve a niente, quindi la legge elettorale è la priorità, poi anche definire modalità di voto a tutela di broglie perché nel nostro paese il rischio c'è sempre, ma nello stesso tempo con modi intelligenti. Cambiamo la legge elettorale, forse il più semplice ha ragione, cambiamo la legge elettorale, cambiamo legge elettorale, questo è l'hashtag più semplice che ha suggerito, ha suggerito Rita, mi sembra chiaro. Allora, sono troppo ignoranti, tutto devono fare, ma noi politici? Eh lo so, gli ignoranti sono tanti, tra i cittadini e tra i dirigenti, però tra i cittadini il rischio c'è perché magari votano a Capocchia, tra quelli che governano è più grave perché fanno le leggi, è una legge fatta male e incide sulla vita di tutti, questo è il problema, questo è il problema. Ecco perché ho sempre detto, io della mia attività che ho sempre fatto, sia quella istituzionale, sia quella che continua a fare da attivista civico, e lo dico ai cretini che ogni tanto c'è qualcuno che dice, ma perché fa queste cose, ma perché? C'è bisogno di un motivo per cui uno si vuole impegnare per migliorare le cose, ma io l'ho fatto da quando avevo 15 anni, a scuola non accettavo le ingiustizie e mi sono organizzato. Allora invece di lamentare e dire cacate, lavorate, impegnatevi, fate qualcosa, invece di parlare male di chi fa, fate santi Dio, ma abbiamo tanti cittadini rincoglioniti che girano sul web a cazzo perché non hanno niente da fare, perché evidentemente nulla sanno e nulla fanno, leccano i piedi ai peggiori personaggi politicanti da quattro soldi, e poi parlano a bambera, come quando vi faccio iniziative che i giovani e codigia giustamente sostengono per difendere l'innovazione, per difendere la dita mediterranea, il made in Italy, e poi dicono, perché parlate delle cose da male? Perché? Perché è una ricchezza il nostro paese, perché milioni di persone in Italia vivono grazie all'agroalimentare, è chiaro? Io lo so bene perché mi è capitato di fare anche il ministro dell'agricoltura, di fare la riforma dell'agricoltura, di fare in modo che i giovani agricoltori abbiano avuto un futuro perché se non c'era quella riforma erano fregati, questa è la politica che serve, chiaro o no? E dobbiamo fare in modo che ci riprendiamo questa possibilità, così come ho detto più volte, i cittadini che si lamentano, si organizzassero, facessero propri partiti, associazioni, gruppi. La democrazia non è il diritto di andare solo a votare e poi di lamentarsi a bambera, il diritto della democrazia è organizzarsi per fare le scelte. L'articolo 49 della Costituzione dice che i cittadini hanno il diritto in Italia a organizzarsi in associazioni o partiti per concorrere alla vita pubblica, per candidarsi a governare. Quindi basta con la cultura del lamento, a bambera, tutto è così. Allora, se i politici attuali non vanno bene, fate voi i politici e cambiate qualcosa o no? Ah, santi Dio, vogliamo fare un po' di esercizio civico di cosa è la democrazia? La democrazia è fatta non di andare solo a votare, ma di potersi candidare per cambiare le cose. Dice, ma noi non lo possiamo fare? Allora abbiamo di fronte delle persone che non sono in grado di essere dei cittadini protagonisti. Cosa hanno fatto i 5 Stelle? Qual è stato l'importante ruolo che i 5 Stelle hanno avuto? Poi possono piacere o non piacere. Ma nel 2012 alle regionali della Sicilia, poi nel 2013, dei cittadini comuni attraverso i meetup che già si riunivano dal 2007-2008 in tante situazioni. Io ho aiutato le prime cose che faceva Grillo nel 2007 quando ero ministro. Quindi lo aiutate pur essendo un esponente di un governo, ma ritenevo giusto che i cittadini potessero lavorare alla politica. Che hanno fatto? Si sono organizzati, hanno costruito un nuovo movimento, si sono presentati alle elezioni e hanno cercato di cambiare le cose. Poi qualcuno è d'accordo che hanno fatto bene, che hanno fatto male, che potevano fare meglio. Ma cosa hanno fatto? Invece di stare a lamentarsi, a bestemmiare contro tutti a bambera, perché non serve a niente, si sono organizzati per cambiare le cose. Questo è il pregio che io riconosco ai 5 Stelle. E così come riconosco che con tutte le difficoltà del caso, Conte si è trovato a fare il Presidente del Consiglio in un momento drammatico e si è comportato da persona per bene e onesta. Così come riconosco, ieri avete visto e ho fatto l'appello con Virginia Raggi per rilanciare la candidatura di Roma all'Expo 2030, penso che Virginia Raggi è stata una sindaca onesta e per bene, sicuramente con grandi difficoltà, in una città complicatissima, ma è una per bene che è stata attaccata in modo ignobile dai soliti gruppi di potere, da alcuni media, che adesso guarda caso in una città dove tutti dicono che si sta peggio di quando c'era Virginia Raggi, tutti stanno zitti. Ma non era tutta colpa della Raggi? I topi, i cinghiali, le buche, adesso Roma come sta? Peggio. E allora dopo due anni si può dire che forse la Raggi è stata ingiustamente massacrata perché è una persona per bene e per di più donna, per cui c'è anche questa follia in più di attacco contro la persona. Questo è il dato, questo è il dato, diciamo le cose come stanno, va bene? E soprattutto basta, noi, come giustamente sta facendo Ansemma, noi i cretini che ci scrivono dicendo eh però dovremmo fare, dico ragazzi lavorate, fate qualcosa, siate attivi, non vi lamentate soltanto, che non serve lamentarsi, bisogna agire e bisogna sostenere le persone per bene e non bisogna dimenticarsele, chiaro? Perché io sto rifacendo l'azione con la Raggi per Roma Expo 2030? Perché tra un mese a Parigi, il 28, si deciderà se l'esposizione mondiale dedicata alla sostenibilità ambientale e all'inclusione sociale, cioè essere accoglienti, debba essere ospitata a Roma o a Riad, ma secondo voi, no? Con tutti i limiti che può avere l'Italia perché noi poi ci lamentiamo giustamente, ma a volte anche oltre il normale, ma secondo voi è più un paese inclusivo e accogliente il nostro o l'Arabia Saudita dove le donne non possono nemmeno andare nella stessa sala ristorante dei maschi. Ecco, è una domanda, credo, retorica perché solo un mentecatto mi vuol dire che è più inclusivo un posto dove le donne non possono andare al ristorante, no? E allora vogliamo lavorare per convincere la maggioranza dei paesi del mondo a votare per Roma invece? Cosa possiamo fare? Anche lì. Io sto lavorando sostenendo che bisogna chiedere a tutte le comunità le cose, anche alle ambasciate, perché cosa decidono? Decidono gli stati attraverso gli ambasciatori che sono nominati a Parigi presso l'organizzazione mondiale che attribuisce l'Expo. Questo è. Il governo italiano, questa volta devo dire, come giustamente abbiamo detto anche insieme a Virginia ieri, comune, regione, governo e istituzione e società civile stanno lavorando insieme, miracolo italiano, viva Dio, a sostenere questa cosa che è stata lanciata dalla Raggi nel 2020. Io sono stato, credo, uno dei primi a fare un'iniziativa anche a Dubai inventandomi un luogo quando ancora non c'era. Perché? Perché penso che Roma merita di avere un'esposizione universale sui grandi temi della sostenibilità dell'innovazione. Lo merita. Poi dopo di che la città non è inguaiata, però a quelli che dicono, ma in che condizioni? È una condizione fetente, ma se riusciamo a vincere questa competizione abbiamo un motivo in più per obbligare gli amministratori a mettere a posto. O no! O ci facciamo la testa prima di fare la battaglia. Milano come ha usato positivamente l'Expo del 2015? Qualcuno è andato a Milano prima e dopo l'Expo? Hanno visto cosa è successo in positivo? Facciamo che la capitale ritorni a essere una capitale degna di questo nome. E non è un caso che io rilancio con la Raggi, perché penso che la Raggi è una persona che sicuramente si trovava inesperta a guidare la capitale d'Italia, la prima sindaca donna di un movimento estraneo ai circuiti politici di sempre. Certo, certo! Ma è stata brava, ha lavorato, ha ridotto i debiti. È lei che ha fatto l'appalto per rifare le strade, se le strade si stanno facendo oggi è per gli appalti fatti dalla Raggi o no? Poi è chiaro che le cose arrivano dopo un anno, dopo due anni tu non sei più sindaco e viene attribuito a chi? A lei no, però sono tutti scontenti di come funziona male il Comune attuale. Chi ha? Quindi dobbiamo fare in modo che si rilanciano le cose positive così come possiamo farlo. Poi c'è da considerare la drammatica vicenda della guerra e di Gaza. Le Nazioni Unite hanno votato ieri una risoluzione che chiede di proteggere i civili e di aiutarli. È una risoluzione particolare? No! Hanno ribadito quello che si dice sempre, anche quando c'è qualunque situazione di conflitto e di guerra si cerca di difendere la popolazione civile. Cosa si dice? La guerra la stanno facendo i soldati, nel caso del Medio Oriente i soldati e i miliziani. Facciamo in modo da tutelare la popolazione civile che rischia di essere schiacciata in questa situazione. Ed è una situazione importante, delicata. Delicata. Ragione Loredana. Prima i lavori venivano assegnati agli amici e gli amici e la Raggi ha fatto gli appalti. Ed è per questo che è stata attaccata anche da una serie di media, di giornali eccetera, legati a gruppi di potere che a Roma non tolleravano una sindaca che era considerata non allineata ai desideri di alcuni gruppi. Torniamo alla risoluzione. La risoluzione dice questo. La situazione è particolarmente complicata. È indiscutibile che la scintilla per far scoppiare la cosa è stata la strage di persone innocenti fatta da Hamas che ha fatto un atto ignobile e non degno di nessuna cosa che si possa ammantare della difesa della causa palestinese. Perché la causa palestinese, che è giusta, perché i palestinesi hanno diritto a uno Stato, assolutamente, non giustifica di andare ad ammazzare delle persone che stanno in una discoteca o dei bambini o dei civili innocenti. Punto. Quindi non c'è dubbio su questo. Ma poi Israele vuole attaccare i miliziari di Hamas. Ed è chiaro, se quelli che attaccano Israele attacca. Israele attacca cercando, come chiedo alla comunità internazionale, di evitare le vittime civili o lo fa nonostante e attacca anche i civili direttamente. Qua è il dubbio. Non è il dubbio. È chiaro che Israele dice che non lo fa. Ma adesso il problema della comunità internazionale che vede una realtà di civili bombardati nei mercati, negli ospedali, allora dicono che i miliziani si nascondono negli ospedali, eccetera. Io capisco la difficoltà della cosa. Ma è evidente che le Nazioni Unite non possono non fare una risoluzione che dica che bisogna difendere i civili come risoluzioni che si fanno in tutte le guerre. E non è un caso. La maggioranza dei paesi ha votato per questa risoluzione. La Francia, la Spagna e gli altri. L'Italia si è astenuta. Posizione che Conte ha definito da Ponzio Pilato. Altri come la SLA l'hanno condannata nettamente. Una posizione che obiettivamente è stata presa anche da altri paesi europei. Ma ovviamente il tema, al di là delle posizioni, è che non si può non aiutare la popolazione civile che viene travolta dalla guerra. Questo è. Perché anche in un codice normale, la guerra ha i codici d'onore, perfino nella guerra. E tra questi codici c'è di non ammazzare gli innocenti. Avete capito? Non ammazzare gli innocenti. Questo è doveroso. E io spero sinceramente che la comunità internazionale possa svolgere tutte le pressioni utili per cui si usi l'intelligence. Se devi scovare i criminali che hanno fatto gli attacchi contro Israele, devi scovare quei criminali e come dire, la reazione è relativa a quelli. E devi assolutamente evitare di uccidere i civili nei mercati, negli ospedali. Ma questo mi sembra ovvio. Mi sembra ovvio. Altrimenti accettiamo la logica di dire per ogni persona innocente uccisa qua, qua ne uccidiamo altre dieci innocenti all'altra. Ma questa logica è folle, è inaccettabile, non è umana. Quindi dobbiamo richiamare tutti a rispettare alcuni valori umani essenziali, ben sapendo che Hamas continua a mandare i missili e anche Hamas li manda anche sui palazzi di civile abitazioni in Israele. Non è che li stanno andando solo mirati a qualche parte. Quindi stiamo parlando di difendere i civili ovunque, sia a Gaza sia in Israele. Cioè il tema della battaglia per difendere i civili. I civili non devono essere ammazzati durante una guerra. Questo è. È difficile, certo. Ecco perché ci vuole un'azione forte della comunità internazionale. Ecco perché la richiesta era un cessato il fuoco. Che permetta ai civili di mettersi il più possibile in sicurezza. Che non significa dover abbandonare tutto, ma significa trovare a livello di comunità internazionale le modalità, come si fa in molti casi. Guardate i caschi blu in Libano. Perché ci stanno i caschi blu dell'ONU? Ci stanno proprio per garantire in quella zona un elemento di cessato il fuoco per evitare che esplodano i conflitti. Questo è. Qua bisogna assolutamente essere, riprendere da questo dramma che sta avvenendo, quello che devo dire l'Unione Europea ha detto in questo caso. Cioè rafforzare l'autorità palestinese che governa la Cisgiordiana, ma non la si rafforza se si ammazzano i civili, perché questo infiamma la protesta di tutti e quindi estremizza anche la posizione in Cisgiordania. Questo succede. Quindi l'Unione Europea dice che dobbiamo rafforzare l'autorità palestinese, continuare a prevedere due stati, il stato della Palestina e la sicurezza di Israele. Perché Israele dall'altro lato cosa chiede? Chiede di non essere sottoposta a razzi, a missili eccetera, che pure vanno sulla popolazione civile israeliana. Questo sia chiaro. Quindi questi due temi non sono imprescindibili. Il diritto dei palestinesi a avere un vero Stato non a essere occupati militarmente o indirettamente. Dall'altro lato il diritto di Israele ha la sua esistenza. Quindi bisogna lottare per la pace. È faticoso dire la verità in questi casi. È faticoso. È faticoso. Ma bisogna dirla. E la verità è una che quando ci sono guerre ogni azione umanitaria della Croce Rosso eccetera delle comunità per salvare le vittime civile a partire dai bambini, dalle donne, agli anziani, ma tutte le vittime civili che non hanno scelto di entrare in guerra, che non si sono arruolati come soldati per andare a fare la guerra, ma che rischiano essere le vittime innocenti di una guerra che è sopra le loro teste e se non si muove la comunità internazionale chi si muove? E non è che noi possiamo sentirci estranei a questo. Perché a tutti i paesi può capitare di trovarsi a diventare civili in conflitti che scoppiano. E allora vorremmo avere una comunità internazionale che interviene o vorremmo avere una comunità internazionale che se ne frega? Che dite? Eh? Allora, chiudiamo con, ritornando ai noi, al nostro, vediamo, aspetta, stanno scrivendo delle cose che però non riesco a leggere tutto, siamo disumani, la relazione è là, sì, infatti il tema è purtroppo drammatico, è drammatico e ricevo, come dire, anche messaggi, cose, di persone che giustamente la vedono da vari angoli di vista. Però quello che è certo è che noi non possiamo assistere in ermi e rassegnarci alla guerra. Così come non ci dobbiamo rassegnare la guerra in Ucraina, sia chiaro, perché poi il dramma dei meccanismi mediatici è che adesso è come se non ci fosse più la guerra in Ucraina. Così come ci sono tante guerre dimenticate e oggi ho ricordato questo, che quando sono stata alla Nazione Unita all'Assemblea dell'ONU sull'acqua ed era già in corso la guerra in Ucraina e chiedevamo iniziative per l'Ucraina, io giustamente con altre persone che stavano all'ONU abbiamo detto una cosa seria, dobbiamo lavorare per un monitoraggio costante di tutte le guerre, perché ci sono centinaia e centinaia migliaia di morti in guerre dimenticate in Africa, in particolare in altre zone del nostro mondo, che noi dimentichiamo. Pensate allo Yemen, che da una vita è una condizione drammatica, pensate al Sud Sudan, pensate a tante altre aree di tensione che poi si rialimentano quando ci sono queste vicende internazionali, perché poiché l'attenzione è tutta mirata su una tragedia che è più in quel momento rilanciata da tutti i media, altri convinti di non essere guardati, possono commettere stragi, genocidi e altre atrocità, perché in qualche modo non c'è nessuno che sta a preoccuparsi di quello. Allora noi dobbiamo anche essere stabilmente attivi su questo e questo lo dice sempre il Papa, devo dire, devo dare atto a Papa Francesco che è quello più attento costantemente a questa tematica. Chiudo ritornando sul governo, perché poi appunto mentre ci sono le guerre rischiamo di non capire che altro sta succedendo e quello che sta succedendo è un governo che barcolla, barcolla in modo netto perché chiaramente è evidente che c'è una crisi in atto con i voti in Parlamento perché cercheranno in tutti i modi di mettere rimedi, non è che cadono domani, ma è evidente che questo governo che aveva promesso di dare incentivi, di aiutare le persone più in difficoltà e di togliere le tasse, sta mettendo le tasse, ha tolto i soldi ai poveri, ha aumentato le difficoltà per andare in pensione e per di più si continua a raccontare l'opposto di quello che fa. Allora è evidente che le persone oltre un certo punto non sono in grado e credo non saranno in grado di difenderle indifendibile, quindi ormai una parte dei cittadini ha capito che siamo di fronte a una truffa. Ultima considerazione, Conte diceva cosa succede in Unione Europea, giustamente una delle frasi che ha detto, interessante nel dibattito parlamentare, è dire alla Meloni ma guardate che l'Italia ormai in Europa non è proprio considerata perché sbraita da una parte e poi si adegua a tutte le decisioni dell'Unione Europea, adesso rischia che anche sul patto di stabilità, il patto di stabilità per capirci è quello che impedisce all'Italia di spendere soldi per la sanità, la scuola, le cose, perché ha un debito pubblico alto. Durante il periodo di Conte, poiché c'era anche la pandemia, si è ottenuto una sospensione che ha consentito al Governo di poter utilizzare più risorse. Ora se l'Unione Europea conferma che invece il fatto di stabilità ritorna pienamente in vigore e quindi il Governo è costretto a ulteriori tagli, mentre non riesce a usare i soldi del PNRR, noi avremo una situazione di recessione che porterà a disoccupazione e miseria, questo è il dato. Allora è evidente che un'azione più forte in Europa è doverosa e la Meloni e la destra dovrebbero chiedere il sostegno di tutte le forze parlamentari, non attaccare, non essere arroganti, ma avere l'umiltà di chiedere un consenso più largo per fare in modo che l'Italia riparta. Perché guardate i drammi della pandemia, aggiunti alle difficoltà della guerra, all'aumento del costo dei carburanti, alle difficoltà, io lo dico sempre, anche del cambiamento climatico. Guardate che ci sono state molte cose difficili anche nell'agricoltura e chi le sottovaluta? È un cretino il fatto che la stagione, noi siamo il terzo paese più grande produttore di pomodori al mondo. Quest'anno hanno avuto un sacco di problemi in agricoltura perché a maggio ci sono state alluvioni, ci sono state cambiamenti climatici, hanno avuto difficoltà nei raccolti, abbiamo avuto una riduzione non drammatica per quest'anno, ma tendenzialmente abbiamo problemi sul cambiamento climatico. E chiaramente perché c'è la guerra, perché il governo non capisce niente di cambiamento climatico, noi continuiamo allegramente a non fare nulla per difendere i nostri agricoltori, il turismo, i settori più sensibili e anche la vita di tutti i cittadini, dalla crisi climatica che è in atto. Avete visto che è successo ad Acapulco, in Messico, è stata distrutta una città, a Acapulco, una delle città iconiche, famose negli anni 60-70 come le città delle vacanze, è stata distrutta da un uragano, gli uragani sono sempre pericolosi, ma esso il cambiamento climatico e il surriscaldamento del clima rende tutte le cose più estreme. Novembre sarà un mese, come dicono tutti, meteorologi, climatologi, gli esperti, dove avremo ancora temperature calde in alcune situazioni e improvvisamente eventi estremi. Tra gli eventi estremi tu puoi avere pure improvvisamente una nevicata, perché cosa sta succedendo? Che essendo saltato il meccanismo del clima tradizionale, tu hai che a volte dall'Africa ti arriva un caldo assurdo fuori stagione, altre volte dall'Artico, quindi dal polo nord, ti arrivano giù e puoi avere anche improvvisamente delle nevicate inaspettate. È successo in Germania recentemente, la Germania non aveva avuto nevicate per un lungo periodo, l'anno scorso quasi zero, due settimane fa ha avuto una nevicata esagerata. Il cambiamento climatico non significa solo che si riscalda, significa che l'effetto di questo sconvolgimento del clima, così si deve chiamare, sconvolgimento, crisi climatico, anzi forse la parola cambiamento, anche se ufficiale, non dobbiamo usarla, perché la gente pensa che il cambiamento qualcosa cambia. Non è così, perché l'agricoltura in particolare risente la siccità, cosa colpisce? L'agricoltura e poi che succede? Aumentano i prezzi, è chiaro, o addirittura finisce il cibo. Questo è che dobbiamo capire. Noi da, per fortuna, da tanto tempo non conosciamo più la parola carestia, ma sulla carestia, la mancanza di cibo, sono cadute le grandi civiltà. È stata una delle origini delle difficoltà dell'impero romano, è stata una delle origini delle crisi, tutte le crisi della Cina fino al Novecento, sono dovute alla carestia. Avete capito di che stiamo parlando? E può essere che qua questi scombinati, che stanno al governo, non hanno neanche la più pallida idea che i piani vanno fatti sull'adattamento al cambiamento climatico. Che io chiedo un commissario straordinario, vero, con poteri veri per la crisi climatica. Non ogni volta andare a vedere che là c'è stata una frana e facciamo un commissario, là c'è stato un problema. Sì, servono anche quelli in emergenza, ma serve una struttura che si occupi permanentemente della crisi climatica. Non è possibile che si parla di questo solo quando succede una tragedia e ci sono i morti. Perché questo è esattamente quello che può fare magari un giornalista, che è anche poco attento, perché è un giornalista che fa inchieste e cerca di capire cosa sta succedendo. Non raccontare solo i fatti. Però un giornalista di cronaca va bene che faccia questo. Ma chi è un dirigente di governo dovrebbe capire, visto che c'ha i dati, c'ha gli esperti, c'ha tutto quello che ci mettono a disposizione. Io perché da ministro ho lanciato questa cosa? Perché avevo consultato gli esperti, gli scienziati e a base di quei dati ho fatto un piano di cosa si doveva fare per l'adattamento ai cambiamenti climatici. E dopo 15 anni non hanno ancora messo in atto manco quel piano là. Questo è il dato. Ma dobbiamo arrenderci? No. Perché è ovvio che le battaglie vanno fatte fino in fondo. Dobbiamo piangerci addosso stabilmente e non raccontare anche le cose positive che abbiamo in Italia sulla dieta mediterranea o su altre cose. No. Dobbiamo raccontare anche le cose belle. Questa è un'altra cosa che io spiego. Soprattutto ai mentecatti che dicono di fronte a queste crisi noi che facciamo? Perdiamo il tempo a valorizzare la cucina italiana. Ma certo che lo facciamo. Ma solo i cretini possono pensare che se abbiamo delle difficoltà non parliamo anche delle cose buone. Chi non sa valorizzare le cose buone non è in grado di difendere poi veramente il paese e la società. È chiaro? La gente che è rancorosa su tutto è gente dannosa al paese. Non utile. Dobbiamo essere rigorosi nelle cose che vanno male a criticarle ma anche capaci di apprezzare le cose buone. Se no non siamo utili. Abbiamo una serie di frustrati da Facebook o non solo da Facebook diciamo. Siamo frustrati pure avanti a un bar che bestemmiano contro tutti. Quella è gente non utile. Assolutamente non utile. Perché sono gente che tra l'altro sono utili, sapete a chi? Ai peggiori. Ai peggiori politicanti e ai peggiori faccendieri. Perché giustamente quelli che dicono ma tanto non fa niente tutti sono uguali. Che succede? Chi favoriscono? I delinquenti, i ladri, i corrotti. È ovvio no? Perché se tu consideri che non vale la pena aiutare le persone brave, se tu consideri uguale, va bene, quello che fa Conte oggi che sta cercando di fare cose positive e quello che fanno altri che al contrario parlano di ponti sullo stretto, di cosa, aiuti agli evasori, non sono uguali. Eh? O no? Allora noi dobbiamo capire questo. C'è bisogno di senso di responsabilità, di capacità, nello stesso tempo valorizzare le cose belle. Avremo adesso a novembre la settimana della cucina italiana nel mondo. Va sostenuta. Noi siamo grande paese esportatore. Noi viviamo perché esportiamo gran parte nell'agroalimentare o nella meccanica o nella moda o nelle cose buone. Queste cose vanno valorizzate. Non è il pauperismo di chi dice che allora dobbiamo solo raccontare solo le tragedie. No! Dobbiamo raccontare le cose buone proprio perché dobbiamo fare in modo che il Paese cresca migliori in tutti i settori. Questo è quello che dobbiamo fare. Va bene. Allora, la signora Parlameloni, credo. Allora, io vi saluto. Vi auguro un buon sabato, oggi in genere. Il sabato non faccio la diretta, però questa settimana sono stato ad Atene a fare, appunto, ad Atene a andare, sono andato a fare la conferenza per la difesa del Mediterraneo. Perché queste cose vanno fatte non solo quando arriva la tragedia e ci precipita addosso un ubifraggio. Va fatto prima aiutando tutti, anche a livello internazionale, a migliorare i sistemi di allerta per salvare le persone quando ci sono emergenze climatiche o quando si tratta di salvare il mare dagli inquinamenti. Tutto questo va fatto. Un saluto, buon sabato sera e ti adoro assai. Non ti incazzano, ma non mi incazzo. Mi, come dire, do energia perché così le cose si sentono meglio. Ma non mi incazzo, non mi incazzo. Non a caso, come vedete, pubblico anche le cose del, che ne so, ieri a Roma mi hanno fatto, sono andato a prendere un pomodoro con riso dentro, una ricetta tipica romana che avevo dimenticato, perché forse me la ricordavo, la faceva la nonna di una mia amica tempo fa e ve l'ho fatta vedere. Poi c'è qualcuno imbecile che dice, ah, ma come mangia? Mangiavo un pomodoro in piedi di risa, è una cosa così strana? E dobbiamo valorizzare anche le ricette tipiche? A me l'ho sempre fatto. L'ho fatto a presidente di commissione, ho fatto da ministro, ho fatto io il registro e il catalogo dei prodotti agroalimentari tradizionali italiani, dove sono registrati dal panettum, passando per la matriciana, arrivando ai prodotti tipici della Sicilia e della Calabria. E ne sono orgoglioso, perché dobbiamo difendere le cose buone nel nostro Paese. Così come attacchiamo le cose negative che dobbiamo aggiustare, dobbiamo difendere quelle buone. E quindi mi arrabbio, ma penso anche che è giusto guardare le cose belle della vita, come guardiamo i monumenti, come guardiamo le bellezze naturali. Ma se non ci entusiasmiamo in positivo per le cose belle, come facciamo a difendere il meglio rispetto a chi ci vuole trascinare e far parlare solo di guerre, di terrorismo, di risse, di scontri? Noi dobbiamo sempre avere in mente anche le cose positive per cui ci stiamo battendo. Buona serata a tutti voi. Ciao.